Ciao a tutti, allora intanto scusate per l'abbassamento di voce ma sono molto influenzata e come vedrete comunque ho girato un tutorial e stasera lo monto e come vedrete anche nel tutorial ho la voce un po' nasale e vi anticipo su cos'è il tutorial, è per realizzare questo diciamo gelatino, la coppettina di gelato in fimo con anche il ghiaccio sopra ma non vi anticipo niente, lo vedete poi nel tutorial stasera volevo fare questo video velocissimo per parlarvi di una cosa ho aperto una pagina facebook relativa proprio a me e sì, perché da una parte ho notato che attraverso il canale mi perdo moltissime domande che mi fate sia perché non mi arrivano gli aggiornamenti su youtube non mi arrivano tutti gli aggiornamenti, mi arrivano solo gli ultimi aggiornamenti dei commenti che mi avete fatto quindi magari delle volte vado nella posta elettronica e scopro lì che mi avete mandato dei messaggi a cui non ho risposto che mi sono persa, sono passata del tempo e così quindi ho pensato di aprire questa pagina per velocizzare anche la risposta alle domande perché su facebook è più facile che ci sia essendo che si può andarci anche tramite cellulare è molto più veloce diciamo che andare su youtube quindi ho aperto questa pagina dove possiamo parlare sempre delle bijoux, delle passe polimeriche, del fimo potete farmi le domande, io posso rispondere abbastanza velocemente e poi si può anche diciamo potete vedere se avete qualche problema della pasta proprio non so, qualcuno che mi dice, è successo delle volte la cottura è venuta così, i colori si sono sfasati, sono venute delle bolle magari se uno riesce a postare anche la foto del problema ci si riesce a risolvere più facilmente a capire più facilmente poi so che sulle pagine facebook si possono fare anche i sondaggi e così possiamo anche fare i sondaggi sui tutorial non so, cosa volete magari si fa un sondaggio mensile, settimanale sui vari tutorial che posso fare per voi così potete votare anche voi e avere i tutorial che vi servono di più insomma e non ho mai avuto una pagina perché abbiamo solo quella ufficiale dello shop, del negozio però noi non vendiamo tramite facebook quindi è solo una pagina così che teniamo per diciamo anche le informazioni relative ai mercatini che facciamo o a varie iniziative però non vendiamo tramite facebook vendiamo solo tramite il sito quindi non facciamo neanche quelle cose tipo gli app che adesso ho visto che molti fanno su facebook e invece questa è una pagina tutta mia e racchiuderò anche diversi appassionati di telefilm perché come sapete io scrivo per il sito Telefilm Addicted comunque vi metto tutti i link nel box e abbiamo anche questo canale che è appunto Telefilm TV dove parliamo di telefilm ogni settimana ci sono delle domande delle recensioni e tutte queste cose vi metto tutti i link nel box se volete andare a dare un'occhiata e quindi questa pagina facebook racchiuderà un po' anche gli appassionati di telefilm e poi anche gli appassionati di film perché sono anche appassionati di film appassionati di libri, di fumetti insomma un sacco di cose e niente io volevo darvi questa informazione e io monto il video questa sera quindi spero di metterlo a caricare sperando che Youtube me lo carichi il prima possibile e niente quindi ci vediamo al prossimo tutorial e spero che il tutorial del gelatino vi piaccia è un tutorial un po' particolare e scoprirete perché nel video tutorial grazie a tutti